Salve gente da REST RECO89 e benvenuti in questa nona se non sbaglio puntata della serie Sandy Bay Allora ragazzuoli, nella scorsa puntata avevamo erpicato il campo 13, ho finito fuori registrazione Alla fine la puntata è venuta di mezz'ora, pensavo durasse meno invece siamo arrivati alla mezz'ora giusta giusta Quindi ottimo E ok, allora siamo qui con il nostro Valtra perché andremo a fertilizzare il campo 11 per poi passare all'erpicatura e semina Però prima di tutto intanto gli diamo una lavata che fa alquanto schifo, ormai è marrone non è più grigio E allora meglio darci una lavata prima che si incragni lo sporco per bene Ok, un'altra cosetta che faremo al Valtra Visto che qualcuno, qualcuno si lamenta che fa schifo con le ruote strette Non facciamo nomi ma diciamo solo i nick Ah, mister Corbo, eh? Cosa dice lei? Eh? Eh? No comunque effettivamente fa un po' schifo con le ruote strette però È giusto per rendere il tutto più realistico e accontentiamo il nostro linkatore ufficiale Che ringraziamo come al solito per la disponibilità che mette sempre il link in descrizione, scusate, nei commenti Allora, pneumatici direi larghi Ok, compra, sì Un'altra cosa che mi ha suggerito il nostro amico di vedere se cambiando Ah, forse aveva ragione Proviamo Configura, sì, ok Sono tornati stretti Rimettiamo E funziona Quindi, mister Corbo, hai visto allora che funziona? Perché ci stavamo chiedendo se col passaggio da pneumatici larghi a stretti te li fanno ricomprare ogni volta o no Invece, comprati una volta poi sono tuoi In senso, ragazzi, se voi mettete le ruote strette a un trattore Poi non spendete ancora soldi per rimettere le ruote larghe e viceversa Quindi è un'ottima cosa Ovvero che comprate una volta e poi sono di vostra proprietà Ottimo, abbiamo scoperto anche questo Ok, andiamo a collegarci il nostro spandiffertilizzante È già carico Molto meglio il Valtra con le ruote larghe, è molto più bellino Magari più avanti potremo anche sostituirlo Vediamo Con la serie Non mi ricordo più Questa dovrebbe essere la serie N Quello che abbiamo adesso Non sono esperto di Valtra Ragazzi, serie N E andiamo magari a comprarci la serie T Più avanti Giusto per mantenere Il Un Valtra Dentro sulla nostra serie Visto che Sono Hanno aggiunto i Valtra Almeno li usiamo Insomma Perfetto Allora ci mettiamo Giù in fondo E partiamo a fertilizzare Perché Come sapete abbiamo fatto Paglia Ovvero non abbiamo Non so come dirlo Praticamente non c'era la chopper straw che Ci fertilizza il campo Quando andiamo ad erpicare E quindi Andiamo di fertilizzante La prima passata Poi Non so Vediamo se Far due volte di sprayer Ok Vediamo un attimo Tanto oggi Vi porto una Una cosetta Ficcante Poi Vedete Diciamo che Saltiamo un passaggio Poi vi mostro Non vi spoilero niente Una cosa Ficcante Una cosa Ficcante Che ne avevamo già parlato Tra l'altro Scorsa volta Se non sbaglio E poi vediamo Ok Fatto questo Spegniamo Qui accendiamo Ok Vediamo se siamo giusti Sì Andiamo giù di qua Comunque ragazzi Oli ho visto che Siete andati Molti di voi Sono passati Nel video Di Robymel81 Vi avete messo L'hashtag Chiacchierone Siete Siete grandi Bravi bravi Comunque grazie Anche a chi si è iscritto Al suo canale Ok Dai magari Prima o poi Facciamo un altro Scarzone Allora Intanto i nostri Girasoli Continuano a crescere Non so se facciamo In tempo A Andare a trebbiarli Vediamo Io vorrei anche trebbiarli Percà miseria Vediamo se abbiamo il tempo Di andare a fare gli acquisti Ok Tanto andiamo avanti A fertilizzare Ok Ok Non so se poi Passare No A fertilizzare Il campo Il campo 13 Perché comunque Aveva la ciopestrò Però gli darei Lo stesso Una passata Di fertilizzante Così poi Fertilizziamo Solo Con lo Sprayer Bella domanda Bella domanda E vediamo Vediamo un attimino Vabbè Beh dai Allora Faccio anche il campo 13 ragazzi Stacco E ci ritroviamo Tra poco Così Finisco di Fertilizzare Di fertilizzare I vari Campi Quindi ragazzuoli Tra poco Ok ragazzi Abbiamo finito Di Concimare O Fertilizzare Il campo 13 E siamo qui Allo shop Non siamo qui Per vendere L'erpice Ma Bensì Ragazzuoli Oggi Andiamo a comprare Una cosetta Ficcante Ovvero La nuova Seminatrice Eccola qua La monosem Cedar Della Lemken Tac 58.000 euro Perfetto Perché Perché Praticamente Ragazzuoli Visto che L'altra Volta Abbiamo Comprato L'erpice Con L'aggancio Con i tre punti Per farla Combinata Perché non Approfittare Di questo Errore Che abbiamo Fatto Aspettate Vediamo Se riusciamo A collegarla Eccoci qua La nostra Combinata Aspettate Ragazzi Che Bababia Aspettate Stiamo Ingroppando Tutto Allora Ragazzuoli Questa qua Praticamente Il nostro Erpice Non ha Come Il dlc Della Cum Che O abbassi O alzi Praticamente Con il mouse Si Sposta Le varie Inclinazioni Del Dei tre punti Vedete Così Le incliniamo Così Ok ragazzi Io direi Di andare Subito Al campo E provare Immediatamente Quanto Mi mancava Questa La Monosem Mamma mia Quanto bella È Porca miseria Ragazzi E quanto Quanto pesa Tutto Sto Sto Marchingegno Guardate Che spettacolo Mamma mia Dai Dai Veccio Tira Dai Veccio Tira Ah Mi sa che è meglio Che freniamo Che sennò Diciamo Spanzi Spettate Che Passa Questo Cretino Che Non Non Danno Mai La Presidenza Stipirle Ok Andiamo In su Accelera Però Dai Mamma mia Che bella Che è Voglio Spolliciate A manetta Ragazzi Eh Spolliciate A manetta Fatica Però Mamma mia Che bestia Vabbè i tubi Non fateci caso Ragazzi Perché i tubi Sono un po' Staccati Ma vabbè Allora Allora Beh Direi che possiamo Andare dentro Di qua Anche se Lo stai Con i sacconi Gli ho Su in cima Ma Andiamo in su Tanto La accorciamo Un pochino Forse Ok Vai però Ok Eccoci qua Ma Ragazzi Ragazzi Non tirerei Neanche giù I sacconi Quasi Quasi Che tanto Facciamo solo così Tanto sapete che Non funzionano Con tutto Quindi Li lascio su E carico Direttamente Da qua Ok Quindi R E R Perfetto Saliamo Andiamo a Dispiegare Il nostro Erpice Come prima cosa E poi anche La seminatrice Perfetto Allora Intanto Abbassiamo subito No Ho sbagliato No Perché non si Ah perché Che miseria Ho sbagliato Che stavo muovendo L'erpice Il Non so Cosa stavo muovendo No Così è l'erpice Così no Aspettate Non mi capisco Ok Dovremmo quasi Esserci Lo incliniamo Per bene La così Più o meno Siamo giusti Poi andiamo A vederlo Io direi Di far subito Una bella screen Con la nostra Combinata La così Eh La Perfetto Facciamo la screen Tac Non so se l'ho fatta Ok Perfetto Allora ragazzoni Andiamo a ricaricare Subito State sempre attenti Poi A inclinarla Giusta Se anche voi Userete Sto sistema Perché se no La seminatrice Non parte Adesso vi mostro subito Un saccone Finito No ma dai Erano tutti e due vuoti Porca miseria Vabbè Partiamo Lo stesso E amen Ok Ci piazziamo Qui così Ci mettiamo qua Si sa che Gli sciacconi Ci basti Invece Ok Allora Prima cosa Andiamo Sull'erpice Lo abbassiamo E Lo Accendiamo Vediamo Se funziona Si Poi passiamo Alla seminatrice Che no Perché non Non devo abbassarla L'accendiamo solo In teoria Dovrebbe Fungere Perfetto Eccoci qua ragazzi Sta funzionando Tutto Però Aspettate che mi metto Proprio in qua Praticamente Stiamo Erpicando E seminando Una combinata Della Len Facendo così Molto ficcante La cosa Facciamo Due lavori In uno Lì abbiamo Anche saltato Un pezzo Si Forse è perché Devo Inclinarla Un pochino Di più Quindi Vediamo di Passare All'erpice No Così no Vediamo Forse adesso Dovremmo Riuscire No La La Rottura Un po' Regolarla All'inizio Ma poi Quando L'avete Regolata Siete A Pusto Eccoci qua Funziona Tutto Perfetto Così Erpicate Seminate In una volta Solo Chiaramente La velocità Di semina È ridotta Perché Comunque L'erpicatura È lenta Quindi Andiamo Un po' Rallentati Però Essendo che Facciamo due Lavori In uno Guadagniamo Lo stesso Non abbiamo Spese di gasolio Dai Vediamola così O di nafta Molto ficcante Molto ficcante Mi gusta Mi gusta Farla così La screen No Meglio Meglio quella Che abbiamo tenuto Prima Va Quella che abbiamo Fatto prima No Molto bella Sta cosetta E poi La Monosem Sempre la Monosem È sempre Bella È sempre Bella Come intanto Abbiamo saluto Un pezzo Ma Vabbè Qui procede Sempre Tutto alla Grande E qua Facciamo una Curva brutta Ma brutta Brutta Eccoci qua Perfetto Torniamo In su Il nostro John Deere Ragazzi Riesce a tirarlo Senza problemi A vedere Quindi Bene Così Direi ottimo Sono un cretino Perché Dovevo seminare Mais Invece Stiamo seminando Girasoli Sono un idiota Lo sapete? Si che lo sapete Porca vacca Vabbè C'ho già Due campi Porca vacca Di Girasoli Ormai Facciamo Girasoli Sto campo E facciamo Il 13 O se no Vabbè Facciamo Mais Qualcos'altro Facciamo Il campo 8 Mais Porca Porca miseria Io Non guardare Dimenticarmi No comment No comment Eh vabbè Dai Ero troppo Entusiasta Della Monosem E quindi Ci siamo Trovati A seminare Girasoli E Vabbò Io vorrei Anche provare A fare A mettere Il La I La I Extension Vehicle Extension Però non so Se funziona Molto Bene Insomma So Vorrei mai Che Mi Facesse Troppi Danni Però Dai Proviamo Proviamo Che non si sa Mai Magari Funziona Anche Ok La Finiamo Il giro Del campo Sono Un Pirlo Che Aspettate Spengo L'artice Se no Ok Allora Alziamo Il tutto Piazziamo Qui E vediamo Un po Allora Shift 5 Su e giù Campo Irregolare Svoltata Sinistra E H No Non funziona Non ci Pro Neanche Non funge Porca Vacca Shift 5 Vediamo Se mettiamo Campo Regolare Se magari Funge Forse Così Funge Ok Allora Praticamente È Disattivato La Veicolo Extension E Così L'operaio Funge Come Normale Insomma Come Non avere La mod Poi farò Magari Il passaggio Qua Io A mano Ma intanto Andiamo a Prendere Qualche Saccone Intanto Dai Ragazzi Andiamo Con il nostro Stire Possiamo Che Chiudere La sponda Andiamo A comprare Qualche Sciacchettino Di semi Se Ce la Facciamo C'è L'era Po Spero Che Non Faccia Danni Spero Che Non Faccia Danni Spero Che Non Faccia Danni Secondo Me Ci Arpicherà Anche Dove Già Seminato E Non Semina Dove Arpicato E Vedrete Casino Fai Bravo Ciao E Spero Sto Sulla Sinistra Che Siamo In Grande Bretania Ok Non Mi ricordo Come si fa A metà la musica 5 Eh si Però Non Non Mi piace Mi fa Cambiare Stazione No Sei Country Radio No No Sei Scemo No Ah Già Meglio Questa Ma Meglio Toglierla Se no Magari Non vorrei Mai Che Mi Vede Sero Il Copy Direi Ok Andiamo di qua Apriamo già la sponda Ok Sponda aperta Stacchiamo Perfetto Andiamo a comprarci Io direi solo semi Quasi quasi Quindi Saccone di semi 620 Facciamo 3 Ok Andiamo a prenderli Papabia Che occhio Perfetto Dove la rimorchio? Qua Ok Prendiamo anche il secco Secondo Riusciamo a prenderne due? Quanto forti Quanto forti siamo Bababia Bababia Quanto forti E Questo qua Non è mica Il John Deer Il 5M Che avevamo Lo Steyer qua Tira Cioè Non è che con Due sacchettini Qua aveva spesa Si si Faccia problemi Eh Eh Dai Perfetto Allora Abbassiamo Andiamo a vedere I disastri Che ha fatto Quell'altro Ok Chiudiamo la sponda Perfetto Vediamo se riusciamo a legare i sacchi Allora Questo si Questo si E quello no Vabbè Per sicurezza Mettiamo anche questo Oddio Direi che possiamo anche toglierlo questo Dai Andiamo Namo Perché forse L'ha preso Un po' dentro Non lo so Forse si 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 L'ha preso L'ha preso proprio L'angolino Ma quel che basta Per tenerlo fermo Ottimo Namo Dai però Dai che devo vedere Quell'altro Quanti casini Ha fatto Secondo me è bloccato Da qualche parte Anzi Guardiamo un attimo Controlliamo No funge Sta fungendo Sta fungendo Passo io Passo io Abbiamo messo il caretino Su due ruote La ghisce La ghisce Ok Dai però Celera Celera E non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa No No Dai 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 Su Dai Su Dai Dai Su Dai Dai Niente Su dai Dai Poi dai Cerco le vacche Ho detto io che Piccava e faceva i casini Ovunque Adesso vi mostro ragazzi Cretino Guardate che casino Ho fatto Ma vabbè dai Ci accontentiamo Poi gli diamo Una passatina E siamo a posto Allora Ragazzi Io direi di staccare un attimo Anche perché vedo A quanto sono arrivato Di registrazione E Intanto finiamo Il campo qui Io e Gaino E ci ritroviamo Tra pochi E vediamo cosa Fare poi Ragazzuoli Abbiamo quasi finito Praticamente Ehm Gio 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 Genoveffa Ghi Perscia Che faccia Questo lavoro qua Che ha fatto Questo lavoro Non è andata Non è andata Neanche male Perché c'era Un'operaia Un'operaia Donna Ha lasciato qualche Righettina Lì in mezzo Ma vabbè Perché ogni tanto Ecco vedete Che anche a me Succede Praticamente L'erpice L'erpice Un'area di lavoro Poco più larga Della seminatrice E quindi Va a creare Queste Righe Nel campo Ma vabbè Che ci frega Ok Andiamo a sistemare Un po' I danni Che ha fatto Che tra l'altro Non neanche fatto Questa quanti danni Ovvero Ha saltato qualche Pezzettino Qua e là Possiamo anche spegnere L'erpice Così Risparmiamo un po' Di semi Invece di erpicare Seminiamo e basta Visto che qua È già erpicato Adesso andiamo In giù Perché più in giù Avevo Lasciato Cioè ha lasciato Qualche altro Pezzettone È un po' Più grandicello Quindi Alziamo Lasciamo anche accesa La nostra seminatrice Tanto Non c'è nessun problema So che è brutto Da vedere Ma passo nel campo Che tanto Dobbiamo anche andare qua Ok Adesso per forza Devo attaccare L'erpice Quindi Mi tocca Erpicare Dove avevamo già seminato Ma non è qui Non è una grande perdita Insomma Ma passiamo anche direttamente qua Così Tech Ok Un'altra passatina dopo E direi che abbiamo anche Concluso Ottimo Allora spegniamo Così finiamo di seminare Alziamo Ci arrotiamo Ci arrotiamo Abbassiamo Accendiamo Ok Abbiamo finito anche questo campetto E siamo E siamo a posto Ragazzi Comunque Ridi e scherza Prima Tra parla E altro Abbiamo anche raggiunto La mezz'ora Quindi Direi che possiamo Anche Concludere Andiamo ad alzare Tutto Ci posizioniamo Qui In parte Ok Chiudiamo Il nostro Erpice Spegniamo La seminatrice La Richiudiamo So che non avete visto Molti lavori Però dai Abbiamo portato Una cosetta nuova E Sapete che Può parlare Qua e là Il tempo passa Anche se Il lavoro Era un po' Sempre lo stesso Prossima puntata Andiamo a trabbiare Girasoli No Non questi qua Che ho Seminato Per errore Ma Agli altri Vabbè Gli do fuoco A questo campo qua E vabbè Ragazzoli Che dire Spero che vi sia piaciuta La puntata Come al solito Lasciate tanti like Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E condividi Che cacchio Ma ho la targa Che cambia numero Ma sei serio? Guarda Ma che cacchio è? Ah Per non farsi beccare Dagli sbirri Ogni tanto cambia numero Così Ma dai Due Mi sposto Sempre due No Ma prima era uno È uno Uno zero Uno due Ma che cosa è dietro? Ma non c'è dietro Che storia Eh La targa Antisbirri E cacchio Zero uno Zero due Volca Vabbè Vabbè ragazzoli Niente Allora Come al solito Lasciate tanti like Iscrivetevi al canale Se non siete A con le iscrivetevi E condividete E noi ci ritroviamo E E noi ci ritroviamo Nella prossima puntata Ciao Gente E noi ci ritroviamo 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 Grazie a tutti